Non c'è lotta, non c'è conquista senza un vero partito comunista. Marco Rizzo ha fatto tappa in Abruzzo a Cupello per presentare il suo libro Il golpe europeo. Per il socialismo contro Monti l'Unione Europea era nato. Si presenta così il leader del movimento comunisti sinistra popolare. In Italia oggi ci sono le elezioni politiche ma in realtà l'Europa, l'Unione Europea ha già votato. Hanno votato le grandi banche per il destino del nostro paese. Potrà vincere Bersani o potrà vincere Berlusconi, potrà vincere Grillo ma non cambierà nulla perché il fiscal compact, il meccanismo europeo di stabilità, il pareggio di bilancio in Costituzione hanno già decretato la fine dell'Italia.